we have bello a tutti i miei slimes qui a alb bentornati nel mio canale eccoci qui con un nuovo episodio di trapping news e oggi andiamo a parlare di tutto quello che sta succedendo ad atlanta in questi giorni vale a dire l'arresto di antl gana ma in generale tutta usl che poi sarebbe youngstone e life nonché proprio l'etichetta di antl è una situazione molto contorta quindi Quindi cercherò di essere il più chiaro possibile andando a spiegare ogni tipo di dubbio che magari insomma qualcuno possa avere e partirei proprio dal fatto di cronaca ovvero per chi non lo sapesse cosa è successo. Qualche giorno fa ad Atlanta sono state arrestate 28 persone praticamente tutti i membri di YSL tra cui appunto anche Ganna e Ian Thug. Tutte le persone coinvolte al loro carico hanno delle accuse c'è chi ne ha 1 o 2 come Thug e Ganna a cui è andata anche piuttosto bene ma anche persone che ne hanno tipo 10-12 e chiaramente queste accuse includono rapina a mano armata, traffico di droga e quant'altro cose che più avanti comunque analizzeremo. E tutte queste cose vanno contro la legge RICO. Innanzitutto spiegherei proprio cos'è la legge RICO perché quest'anno ne abbiamo sentito parlare anche in diversi casi e insomma lo mettere in chiaro così la gente sa cos'è. RICO è un acronimo e sta per Racketer Influence and Corrupt Organization Act. È una legge federale statunitense ideata per combattere il crimine organizzato. In poche parole secondo questa legge se tu fai parte di un'organizzazione criminale che chiaramente se tale vuol dire che commette dei reati questi reati anche se non sono commessi in prima persona da te comunque ricadono su di te nel senso che tu ne paghi le conseguenze. Per farlo capire a tutti se io sono in una banda criminale con Yantag Gunna e magari Gunna vende della droga anche se quella droga non l'ho venduta io io ne vado a pagare le conseguenze perché faccio parte dell'organizzazione criminale. Di conseguenza per i rapper soprattutto chi magari ha avuto a che fare nel passato con attività criminale e quant'altro questo è un bel cazzo in culo perdonatemi il termine perché cosa vuol dire? Vuol dire che se tu anche appunto in passato hai fatto parte di una banda criminale ed hai fatto delle determinate cose se poi queste cose vengono a galla ne paghi le conseguenze anche se magari adesso hai switchato vite e fai tutt'altro così come magari un po' l'esempio di Yantag. Ha portato agli arresti anche già di altri rapper proprio durante anche questi mesi quest'anno. Il caso più recente credo che sia quello di Hotboy di cui magari più avanti acceneremo qualcosa. E soprattutto la cosa più grave è che questa legge potrebbe penalizzare e non poco artisti che magari fanno trappo drill perché si sa che sono generi che vivono di queste cose quindi di racconti criminali passati anche attuali pull up al tuo blocco insomma tutte cose del genere. E magari tra qualche mese tra qualche anno potrebbe anche succedere che gli artisti non si esprimono più riguardo queste cose perché appunto poi rischiano che li vengano usate contro. Ora andrei a vedere quelle che sono le accuse magari rivolte sia appunto Yantag che Gun ma in generale a tutta YSL e partirei proprio da qui perché YSL quella che è un'etichetta musicale è stata definita una banda criminale di strada fondata nel 2012 con un'affiliazione ai Bloods. Cosa a mio avviso gravissima perché praticamente hanno fatto passare tutta YSL come appunto un'attività criminale quando è una label. Una label composta da molte artistiche anni fa e probabilmente anche attualmente hanno qualche scazzo con la legge però definirla un'organizzazione criminale affiliata ai Bloods è veramente assurdo. E chiaramente perché affiliata ai Bloods perché non è un segreto che Yantag diversi anni fa insomma lo vedevamo un po' di più magari con bandane rosse in generale più affiliato all'attività di strada. Questo insomma è ricaduto anche sull'immagine dell'etichetta. Tug ha suo carico a diverse accuse tra queste le più gravi a quanto pare avrebbe noleggiato una macchina che più tardi sarebbe stata usata per fare un omicidio. Donovan Thomas Junior è la vittima in questione ed è morto nel gennaio del 2015 e insieme a Tug per questo fatto sono sospettati Yak Gotti e altre quattro persone. Poi ancora Tug secondo le accuse avrebbe commissionato l'omicidio di YFN Lucci che è un rapper americano che sta in carcere e avrebbe appunto incaricato delle persone e non molto tempo fa è stato accoltellato. Ganna da quanto ho capito invece è stato arrestato dopo Yantag mi sa proprio ieri o comunque non da molte ore. Anche lui rientra appunto tra gli accusati nonostante le sue accuse sono un pochino più deboli ora vi spiego il perché. Essenzialmente sono stati utilizzati molto anche i testi dei rapper che adesso andremo a vedere il loro slang per esempio l'uso delle parole slat, le collane USL, i tatuaggi. Insomma tutto ciò che poteva riportare e associarli a USL è stato usato contro di loro perché appunto è stata ritenuta USL un'attività criminale. Quindi cosa vuol dire? Che se c'avevano le collane USL vuol dire che erano affiliati della banda criminale. E' un po' così chi è andata. Per Tugga sono state citate alcune barre di Just How It Is che sarebbe poi l'intro di So Much Fun. Leggiamole insieme. I don't need the robin, I don't need the jacking of un rapping in cui essenzialmente subito Tugg afferma o comunque ammette di aver fatto in passato come robin cioè che sarebbe rubare. Poi jacking non so bene cosa stiene a indicare però insomma altre cose illegali e queste cose li sono insomma state usate contro. Poi ancora una volta, eat them with the Mac now, now his whole body is capped. Cioè colpiscilo con il Mac che sarebbe un'arma e ora tutto il suo corpo insomma è sfigurato immagino voglia dire una cosa del genere. Non sono neanche gli unici testi usati perché veramente sono stati utilizzati anche sui canzoni dal 2016 fino ad oggi. Immaginiamo no che Yantaga abbia già dei sospetti, delle accuse a suo carico. Cosa ha fatto la polizia? È andata anche a leggere questi testi che da soli magari non significano nulla. Però se si sommano alle accuse, ai sospetti, sono un aggravante diciamo anche non così leggera. Per Ganna invece si sono soffermati alla canzone Fox 5 con Lil Kid e soprattutto al video perché appunto nel video si vede Ganna con le collane USL e quant'altro. Per esempio guardate qui subito il ritornello di Lil Kid, free homicide, it was just a homicide, yeah, in the daytime. Cioè come potete immaginare comunque un poliziotto che legge queste cose, insomma viene un attimo colpito. Vediamo Ganna, allora è stata presa in particolare questa barra qui, we got ten hundred round choppers, che essenzialmente si riferisce sempre alle armi. Poi su questo dibattito dell'utilizzo dei testi nei processi e in tribunale in generale si sono già, come dire, espressi rapper come Jay-Z, Mick Mill, ma anche Faito Joe. Condannando la cosa perché la musica è una cosa e poi magari ecco le questioni della vita personale sono un'altra. E io diciamo che sono super d'accordo su questo perché la cosa più grave è che se questa operazione Rico, insomma in generale, la polizia ha deciso di arrestare tutte queste gang criminali e ora di questo vi dirò un'altra roba, questo potrebbe essere un bel problema perché magari pezzi come, lasciamo stare Mind of a Murder che quella è tutta una questione particolare, ma anche gli storytelling che magari faceva King Von non ci saranno più perché un rapper dice, col cazzo che te ne parli una canzone se poi mi devi sbattere dentro. Quindi niente, io sono dell'idea che nelle canzoni vengono dette tante cose, non tutte sono vere o comunque non di tutte sia la certezza che siano vere. E secondo me il bello è proprio questo. Non lo so, io la penso così, mi sembra un po' una stronzata usarle contro i rapper, perché a sto punto veramente c'è il rischio che, come dicevo prima, generi come la Trap o la Dree ne possano risentire fortemente. E da quanto ho capito, chi ha svolto tutta questa operazione su USL, in generale Yantag, eccetera eccetera, è lo stesso che l'aveva svolta con YFN Lucci, che credo che a questo punto sia in galera proprio per via di questa operazione, e non si vogliono fermare perché da quanto ho letto l'obiettivo sarebbe proprio quello di ripulire le strade di Atlanta. E quindi altri rapper come magari Lil Baby e tutta la sua 4PF attualmente potrebbero un attimo preoccuparsi. Insomma, vedremo nei prossimi mesi come si possa evolvere la cosa, però se ci dovesse essere qualche altro arresto, diciamo che c'era anche da aspettarselo. Quindi ragazzi, ad oggi questo è tutto quello che si sa a riguardo. Chiaramente negli prossimi giorni usciranno altre notizie, altre cose. Tag ha già fatto la prima apparizione, insomma, in tribunale in cui ha parlato, condiviso sui social i video. Quindi seguitemi sui social perché se ci dovessero essere aggiornamenti, lì sicuramente ne parlerò. Volevo fare subito questo video per chiarire un po' la situazione. Ditemi un po' voi nei commenti cosa ne pensate, cosa ne pensate anche dell'utilizzo nei testi, nei tribunali, di questa situazione, di veramente tutto. Io ci tengo a leggere tutte le vostre idee, i vostri commenti e aprire anche, diciamo, un piccolo dibattito. Lasciate un mi piace nel caso in cui il video vi fosse piaciuto. Se vi va, condividetelo in modo tale che tutti possano, insomma, sapere cosa è successo per bene. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Slat! Slat!